Mister Matteo Topachie al termine della sconfitta per 5-1 contro il football di Teatro Roma Nord e della sua ragnatela pub e baccia immobiliare. Mister, un punteggio che è simile a quello corso nella scorsa partita, ma una ragnatela totalmente diversa sin dal primo minuto. Punteggio forse troppo largo, maturato nella ripresa. Il primo tempo era finito 1-0, ma potevate essere sia avanti voi che in pari che 1-0 come è stata. Sì, è stata una bella partita. Finalmente ho ritrovato tutta la squadra. Oggi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Loro sono una grande squadra. La partita sì, nel primo tempo 1-0, poi abbiamo preso il secondo per colpa nostra. Però comunque loro hanno meritato di vincere, non 5-1 secondo me, però hanno meritato la vittoria. Punteggio largo che è maturato anche dopo l'infortunio di Gianluca Ponziani. Abbiamo visto arrivare l'ambulanza al campo, possiamo però tranquillizzare tutti. Sono controlli di rutina, anche se il contrasto con Cardelli è stato molto duro. Ponziani è uno che comunque, lo sappiamo, non si è mai tirato indietro. Ponziani è fondamentale per noi, quindi mi dispiace per il ragazzo perché poi viene da Gianluca Infortuni. È stato un brutto intervento che secondo me non ci doveva essere perché la palla era lontana, è stato fatto in male modo. Mi dispiace, comunque per fortuna non è successo niente e alla prossima ci sarà sicuramente. Volevo chiederle mister, l'attacco con Morezzi, Placido e Paresce l'ha potuto schierare pochissime volte quest'anno, forse per la prima o per la seconda volta in totale. Quello è l'attacco che comunque sia, oggi si è trovato di fronte a una delle squadre che ha preso meno gol nelle ultime giornate di Serie A. È l'attacco che può comunque farvi mantenere una posizione che non conoscendo il risultato di Eurobetm Servizi, vi tiene comunque ancora nei play-off se il campionato finisse ora. Sì, questo è un tridente che ci può dare tanto e loro si trovano bene. Poi a noi ci servono, ci servono questi giocatori, tanto che non ce l'ho, quindi oggi finalmente l'ho di Rovali, spero che fino alla fine avremo la squadra al completo e sicuramente faremo bene. Sono sicuro che queste due sconfitte ci fanno pensare che noi comunque abbiamo giocato quella robetta e non abbiamo giocato per niente. Questa secondo me l'abbiamo giocata e ci ha detto anche un po' male dal punto di vista. Voglio fare i complimenti al portiere loro che secondo me è stata una partita incredibile. Ultimissima domanda sulla prossima, arriva la Venere in bichini, squadra che sta maturando e sembra essere più pericolosa di giornata in giornata, queste però sono le mine vacanti che ogni tanto quando arrivano al Ciriaci, al cospetto della Ragnatela, ricordiamo anche lo scorso anno, o quest'anno per esempio col Cottini, vengono regolate da voi che a calciotto ci giocate da molto, diciamo. Quella sarà una partita fondamentale, quella dobbiamo assolutamente vincere in qualsiasi modo perché loro si stanno avvicinando, quindi per rimanere in playoff dobbiamo cominciare a fare tre punti perché se no rischiamo, come l'anno passato, di non arrivarci. Abbiamo tutte le possibilità di arrivarci, la squadra secondo me ce la metterà tutta fino alla fine e sicuramente ritrovando il nostro gioco, la tranquillità in campo faremo bene. Sono convinto di questo. Complimenti in bocca al lupo al mister Matteo Topachie. Grazie.